Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come mettere così la lingua italiano sul nuovo gioco Hellblade 2 quindi in questo caso andiamo direttamente nella sua cartella quindi dove hai installato direttamente il gioco quindi entra nella sua cartella eccola qua la cartella di Hellblade 2 andiamo direttamente sulla barra della ricerca per scrivere così il file steam trattino basso emu vai così a trovare il language questo qua da English metti Italian ovviamente non c'è il doppiaggio italiano quindi c'è solamente l'interfaccia però se te la ritrovi in inglese spagnolo o tedesco possiamo metterlo in italiano language Italian ed eccolo qua vai su file salvi così il documento chiudi qua tasto destro sopra su mostra attribuzioni e proprietà attributi solo lettura togli così la spunta solo lettura e fai ok e ora non mi resta che entrare nel gioco e vedere se la lingua è cambiata come puoi vedere questo gioco utilizza una funzionalità quindi l'interfaccia è cambiata spazio conferma avvertendo sui contenuti continua l'interfaccia è cambiata quindi non è più nella lingua tedesco spagnolo è in italiano quindi continua capitoli nuova storie impostazioni e basta quindi se questo video è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao